Spettabile redazione, vi chiedo di pubblicare questa mia lettera che riguarda la problematica della cosiddetta dialisi vacanze, cioè la possibilità di fare effettuare la dialisi tre volte a settimana ai dializzati che decidono di trascorrere un periodo di vacanza nella nostra provincia. Quest'anno, per la prima volta, pare che tale servizio non sarà disponibile, con enormi disagi per i turisti che necessitando di dialisi saranno costretti a spostarsi su Catanzaro, Cariati, cioè nelle province limitrofe. Chi ha un familiare con questa patologia sa perfettamente quanto la dialisi sia importante. Da quanto si è appreso, pare non ci siano fondi per pagare lo straordinario agli addetti per un nuovo turno da dedicare ai turisti. È un assurdo, lo sottolineo, visto che gli eventuali costi sarebbero ribaltati alle rispettive asle di provenienza. Che dire? Sentiamo da parte di tutti l'intenzione di fare ripartire il turismo e di intensificare l'assistenza medico-ospedaliero e poi assistiamo a tali decisioni. Inoltre, segnalo che i pazienti che per tempo ne hanno fatto richiesta tramite mail personale dall'asle di provenienza, pare abbiano saputo solo telefonicamente che quest'anno il servizio non sarà disponibile. Fiduciosa nel suo interessamento, le porgo cordiali saluti. Maria De Caria.